La signora Giovannina ha 86 anni, non ne vuol sapere di lasciare casa sua perché così la sente assieme agli altri anziani in tutto 13 che risiedono in questa villa zona Campolucci alle porte di Arezzo, oggi al centro di una complicata vicenda giudiziaria. La mia mamma, anche se ha l'alzame e la demenza senile da circa 6-7 anni, ma lei è rinata, stando qui è rinata. Tutto parte da un esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo depositato da un medico e un infermiere. La Procura dispone una perquisizione effettuata il 7 marzo da Polizia Municipale e Guardia di Finanza alla presenza anche di personale ASL. Alla fine saranno due gli iscritti nel registro degli indagati, un cinquantenne italiana e una quarantaquattrenne romena, due dei sette badanti pagati dalle famiglie. A loro viene contestato il reato di abuso della professione. Lei come ha trovato sua mamma dal punto di vista sanitario? Perfetta, non camminava, cammina. Non ha più brutti odori addosso. La villa, definita struttura, è destinataria di un'ordinanza di chiusura firmata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Gli anziani dovrebbero essere tutti trasferiti, tant'è che ai familiari è stata notificata dalla Polizia Municipale la richiesta della ASL per una valutazione sanitaria. Quando tu ti rivolgi la prima volta agli assistenti sociali, viene a casa un assistente sociale con un'infermiera e gli fanno dei test di valutazione per vedere a che struttura può essere indirizzato il paziente, tra virgolette. Perché non è venuta la prima volta l'assistente sociale già con il medico a fare questa visita completa, ma c'è stata offerta in seguito a questa perquisizione? Il problema principale, insomma, è che la villa da abitazione privata verrebbe considerata una RSA senza le dovute autorizzazioni. I familiari non ci stanno e sostengono la buona fede di questo sistema di autogestione. Qui un gruppo di familiari si sono messi d'accordo, hanno preso in locazione un immobile, hanno assunto delle badanti e invece che tenere una mamma di qua e una mamma di là le tengono tutte assieme. Ma questo immobile che voi vedete alle mie spalle è locato, non è badanti, è locato alle persone che qui vivono e con i loro familiari. Il pool di avvocati che segue la vicenda depositerà un ricorso al TAR e comunque vada. Questa è indubbiamente una vicenda destinata a fare giurisprudenza e a fare la storia di un welfare che a quanto pare non c'è. Come si sta qui dentro? Benissimo. Io sono grassata, capito? Solo la roba mi è toccata allargarla tutta. Questa è casa sua? Come casa mia, forse meglio. Grazie a tutti.